segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te noi siamo ucraina c'è centro in europa ci troviamo bene ci sentiamo bene e vogliamo pure entrare perché da loro non c'è tutti i diritti violati noi vogliamo entrare in europa perché noi siamo un pezzo di europa non vogliamo dentro taiga siberia vogliamo europa l'europa per me spirale di luce è qualcosa nuovo qualcosa che ti porta in futuro migliore vogliamo muoverci verso l'europa verso il mondo civile che ne dice spero che ucraina avrà un rinascimento che avrà la libertà le stesse possibilità che hanno tutte le persone che vivono in unione europea